3, vai Grazie. Ecco, così lo prendo, grazie. Che era Andrea? Sì, sì, fatto. Sì, ok. 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 Grazie. 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 si arriva nell'interno in piedi si strozza in piedi vai guardando i bottini più a schiena guarda guarda no 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 pronta vai 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 ma va va con il Grazie. 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 Andrei? Sì. Mi faccio il patto. Pure il tirato, la specia, però. Oh, scusami tu. Buono. Grazie. Grazie. Molto, no. Non ci può essere, non ci può essere, ma che è molto così. E' molto puro per toccando. fondo. E' molto puro andando le mani. che voleva, non mi prendi, non lo guardare. ohhhhhh ahahahah ahah eh, ehm ahah Sì 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 Guardiamo Guarda cosa ci viene Guarda cosa cosa sto anzeno Grazie. 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 come a campo è lento, c'ho una punta troppo guarda un gioco troppo tirato, c'ho paura perché la palla scorda la palla va, io mi sono lontano quindi c'ho paura di andare tutto e sbagli e poi bestemmi porca paletta non riesco a essere non riesco a farse è forte è forte Grazie. 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 Sono tutti buoni altro. Sì, sì. Vai! Dai! Sì, guarda! Non lo spezzio, se no. Almeno quando lo cito, poi. Vedi, non lo so. 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 Ma dai, cazzo! Uff! Pfff! Si scende. Chi os vandò qui, sei. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ma va, va. Ma va. andiamo a distanza da giù e da giù togliamo dal frangio grazie 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 Vabbè, se lo metto l'abbiamo iniziato. Sì, sì. Adesso la torta. Scusi. Molta la palla. Scusi. Beh, guarda. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.